Anzi la mano chi avrebbe mai pensato ad inizio stagione che oggi si sarebbe giocata la sfida tra le due squadre sul fondo della classifica. Una sola vittoria per Brindisi, neanche una per i padroni di casa di Treviso. Oggi sul parquet è una sorta di derby nonostante i 947 chilometri di distanza. L'errore di Morris, subito Bowman a correre in contropiede, fino in fondo Kai Bowman! Difesa molto molto alta di Treviso che riesce a negare ogni linea di passaggio agli avversari. Ora però il talento di Jeremy Singlin, Justin Robinson riapre per Olisevicius, il lituano si alza da tre punti! Oswaldas, Olisevicius! Sneed, cancellato da Polica! Olisevicius, step back per tirare da tre punti! Arriva la tripla di Olisevicius! Anche il fallo sotto le plance! Boomman rallenta un po' il ritmo, poi Olisevicius c'è spazio per Zanelli da tre punti! Esplode il palaverde! Loren Jackson prova ad attaccare mezzanotte in uno contro uno, il folletto della Epicasa lancia Jordan Bailly! Vai e tre secondi per andare al tiro per Singlin! Zanelli da tre punti per la Nutribullet! D'Angelo Harrison, poi lo scarico per Allen, mezzanotte ci prova anche lui! E sono quattro, le triple in fila per la Nutribullet! Adesso Allen appoggia, torna tutto semplice per l'attacco della Nutribullet! 42 a 19! Sono solo 20 minuti, è già capitato? Non ce ne andiamo a importare niente, dobbiamo continuare dritto per la nostra strada, non farci condizionare da niente e poche parole, solo hai fatto adesso! Singlin! Grande canestro del 30 brindesino! C'è spazio per Morris, da tre! Ancora segno! E allora, eccolo qua, il canestro di Terry Allen! Morris, il blocco alto di Bailly, ancora Morris! Appoggia la tabella, non si ferma più! D'Angelo Harrison per mezzanotte, ancora Harrison, uno contro uno, si alza per tirare, da tre! Peng! Per Harrison! Mezzanotte, di nuovo per Harrison, poi attacca fino in fondo, Zanelli! Con la mano sinistra! Intercetto di Bowman, si invola Bowman contro la difesa di Brindisi! Fallo e canestro di Kai Bowman! Bowman è già dall'altra parte! Kai Bowman! Vola lassù! In cielo! Mezzanotte, va a firmare il più 26! Sneed, poi l'intercetto di Olisevicius! Schiaccia! Con prepotenza Xavier Sneed! Prova ad attaccare ancora, fino in fondo, l'aiuto di Risma non basta, trova il Pertugio! Che triplo ha messo D'Angelo Harrison! Da 10 metri! Alla fine il più 26 è arrivato! Arriva il primo successo per la Nutribullet, Treviso! È stato un periodo durissimo, cioè 0-9 è veramente tosto da non aver mai visto la luce in questo periodo. Abbiamo sempre lavorato e per una sera possiamo tirare veramente 10 bravi, non abbiamo mai mollato. Grazie!